Ciao a tutti da Altenza, provincia di Casetta! Siamo insieme al Comitato Nore di San Martino per festeggiare l'Azzurra Management, i complementari di attività, e quindi vado su per invitare una parte di loro... Ciao! 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 Chi di voi ci esprime un pezzino per l'Azzurra? Noi l'anno scorso abbiamo conosciuto il signor Giovanni e ci siamo trovati molto bene e gli facevano tanti auguri per i suoi eventi. Grazie. Adesso voglio invitare il nostro titolare Giovanni Pignola che ha preparato per voi una pergamena. Eccolo che ci raggiunge! Ciao! Buonasera! Allora, infatti, come dicevo, è stato il primo anno, nel 2015, che abbiamo fatto la festa insieme. Era venuto tante volte, però non ero mai riuscito a instaurare un rapporto con il Comitato precedente. Invece l'anno scorso siamo riusciti a fare una grande festa, un grande successo, ed era goberoso da parte mia ricambiare la loro stima, il loro affetto, con una pergamena per festeggiare insieme i nostri 20 anni di attività. E per continuare alla grande festeggiamo con la torta e la moto di gruppo. Eccola qui! Azzurra nonazle, con 20 anni... ...dincente felice! ... 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